Giocattoli, trucchi, maschere, parrucche, accessori di carnevale, contraffatti e privi della marchiatura CE, erano esposti per la vendita presso 10 esercizi commerciali di Pescara Montesilvano e Cepagatti. Circa 90.000 prodotti, in gran parte destinati a finire tra le mani dei bambini e oggetti accattivanti usa e getta, offerti al prezzo di pochi spiccioli ma di pessima qualità, contenenti soprattutto componenti prive delle minime indicazioni e precauzioni d'uso sono stati sequestrati dai militari del nucleo della polizia tributaria di Pescara. Le fiamme gialle hanno accertato le violazioni nell'ambito di uno specifico dispositivo di controllo a contrasto della contraffazione e a salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, pesanti le sanzioni nei confronti dei titolari dei punti vendita, imprenditori di origine cinese. Per tre di loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Altri sette sono stati segnalati in via amministrativa alla Camera di Commercio per violazioni al codice del consumo.